stesura panetto teta romana siamo ritardissimo perché leggermente avanti il panetto e andiamo a prenderlo eccolo qui vedete che è andato già avanti ma non è un problema lo recuperiamo voilà mettiamo un po di semola sopra e vado a schiacciare i bolli però mi sa che qui con le bolle stiamo perdendo un po il controllo c'è più schiacciate riescono a bolle come è possibile si è stesa in un attimo però ha tenuto lo stesso e adesso andiamo a stendere nascosto qui così vedete voilà togliamo in eccesso e rientriamo dentro togliamo questo e adesso quando sono grosse grosse scoppiate non vi fate problemi sennò poi in forno tendono a bruciare vedete che si stende quasi da solo il panetto perciò anche se l'abbiamo preso leggermente ma va benissimo riusciamo a gestirlo bene ponte bolle guarda ed ecco fatto il panetto a più tardi per il risultato teglia romana con lardo un po' noce e miele e un'altra condita con manzo ricotta salata e crema di carciofi così